Faccio la raccolta differenziata Certamente Ma è una domanda? Faccio la raccolta differenziata perché lo dice da stella parola è una raccolta differenziata differenzia che sarai differenziato Faccio la raccolta differenziata anche a Firenze dove studio Faccio la raccolta differenziata perché è utile per fare meno sporco e inquinare meno l'ambiente Faccio la raccolta differenziata intanto come una cosa ovvia per un futuro migliore perché intorno a me comunque vedo spazzatura in continuazione che viene buttata anche nel mio giardino e quindi mi piacerebbe vederla sempre più pulita Semplicemente perché in questo modo i rifiuti possono essere poi recuperati possono essere riciclati e quindi Perché mi sembra il minimo di civiltà che si possa usare nei nostri confronti e della natura che ci circonda Faccio la raccolta differenziata perché è giusto farla è una cosa che possono fare tutti porta via poco tempo e è utile per il mondo Faccio la raccolta differenziata